Eccomi con l'anteprima di campagna 7, come promesso. Mi sono sposata perché dove ero prima c'era molto sole e quindi non si vede molto. Allora, vediamo. Qua dice che si potrà avere una borsa in campagna 9, a soli 5 euro, 95, partecipando a queste tappe, che sono 3. Praticamente si acquisterà almeno 15 euro da catalogo, più un prodotto fedeltà e poi si potrà avere la borsa. Quindi questi sono i prodotti fedeltà che ci saranno nelle 3 tappe e questa è la borsa in questione. Poi, continuando, si potrà avere a soli 9,97 in campagna 10 del portafoglio e portacellulare per fare l'abbinamento. Quelli qui. Poi, iniziamo con le nubes. Praticamente, si potrà avere questi qui, degli orecchini, maulda, tribal, aggancio, placato bronzo, con perle e pietre bijou, a 10,90 euro, che sono questi. Ah, e poi dice, per i clienti, ordina 12 euro da pagina 2 a pagina 19 con almeno un mascara Big & Darling e potrà avere uno sconto di 7,95 euro sugli orecchini. Quindi, se farete anche l'acquisto del mascara, ci sarà uno sconto. Il nuovo mascara in questione è questo qui, il Big Daring, con questo applicatore molto bello, applicatore dinamite, volume esplosivo, incurvato con setoli, dell'orientamento multilivello, per catturare le ciglia con un volume esplosivo a 360 gradi. E si può avere in tre tonalità come prezzo 7,95 euro. E' questo scovolino molto particolare, questo è il packaging, e queste sono le tre tonalità, marrone e nero, blu e nero. 7,95 euro prezzo lancio, deve essere molto interessante questo mascara. Poi, altre novità, allora, vediamo, arrivano i trio. Trio di ombretti, High Dimensions, unico dalla Texture Crema Polvere, per un trucco luminoso a lunga tenuta, a 8,95 euro. Ed è questo, veramente bellissimo. Poi, ci sono tre tipi di trio, potete scegliere sul blu, sul viola, sul nero e grigio. Ecco qui, molto carino, devo dire. Poi, adesivi decorativi per unghie, 5,95 euro, ci sono zebrati, oppure con questi disegnini squadrati. Va bene anche per i piedi, devo dire, sì. Quindi potete applicarli sui piedi anche. Poi, ci sono penna correttiva per le sbavature dell'applicazione dello smalto, a 5,95 euro, della Nail Expert, questa qui. Poi, smalto Nail Pro Plus, pure le Peach, arricchito con gel acrilico per fortificare le unghie. 12 giorni di colore a lunga tenuta, a 3,95 euro. Questo qua. Poi. Profumo, Secret Fantasy, Midnight, e ho detto i Let's Fry, armonia legnosa Gornemann, 50 ml, a 9,95 euro. Con la scritta che si illumina al buio sul packaging. Poi, Fire Away, o dei Perfum Spray, maxi formato 100 ml, a 19,95 euro. Se volete il maxi formato, ora uscirà. Della fragranza più famosa. Poi, per lui, Profumo, Action Chic, e ho detto i Let's, da 50, a 6,95 euro. Questo qui. Armonia legnosa aromatica. Poi, lozione cremosa da giorno, protezione 20, più sera ad azione intensiva, 8 in 1, 50 ml di prodotto, a 8,95 euro. Della Solution. Questo qui. E poi, crema anti-età da notte con azione intensiva, 8 in 1, sempre da 50 ml, a 8,95 euro. E' questo qua. E poi qua sotto c'è la spiegazione di tutte le varie creme, tipi di pelle. Poi. Balsamo di bellezzazione delicata, effetto matto, opacizzante, quindi. Con protezione solare 15, quindi è la nuova BB cream, effetto opacizzante, diciamo, con due tonalità, a prezzo lancio di 8,95 euro. Ed è questa. Vedi sempre la confezione come quella che c'era già, però opacizzante. E c'è light, chiara o medium. Questa qui ha delle micropolveri, effetto matto. Per assorbire l'eccesso di sebo, quindi per chi ha le pelli grassi miste, direi che è perfetta. Poi, della Vonker, nuova crema, 3 in 1, crema mani, unghie e cuticole, con olio di Argan. Interessante anche questa. A 2,50 euro. Super idratazione. Poi, questo non c'entra. Poi, programma fedeltà, sempre della borsa che fa vedere quello di prima, vabbè. Poi, gel rivitalizzante per le gambe e la menta piperita. Allievia la stanchezza delle gambe, 75 ml, prezzo 3,95 euro della Foodworks. Questo qui. Poi, bagno schiuma al mandarino e gessomino bianco, da 500 ml, 2,95 euro. Nuova uscita per i bubble bath. Molto bello. Poi, abbiamo l'olio secco spray e la menta acquatica, della Skinso Soft, 4,95 euro per 150 ml di prodotto. Questo qua. E poi, abbiamo una manopola della Planespa, 2 in 1, con un lato sfogliante e l'altro con spugna. 4,50 euro. Ed è questa qui. Molto utile, devo dire, sì. Poi, andiamo ai bijoux. I bijoux, allora andiamo più veloci, perché altrimenti ci dilunghiamo. Allora, Starburst. C'è l'anello, gli orecchini e la collana. 6,95 euro, l'anello, 7,95 euro, gli orecchini e la collana, 9,95 euro. Questo qui. Poi, bracciale Hayley, 8,95 euro. Poi, abbiamo un sardinele da piedi, caliana, 8,95 euro, quindi 6 anelli. Molto belli. Poi, collana Estasherry, 7,95 euro. In queste ciliegie. Poi, abbiamo la collana Mahould, Tribal, 12,95 euro. Poi, orecchini dolci, 8 paia di orecchini placcati argento, 8,95 euro. In questo set. E poi, set bijoux da piedi, Clea. Due cavigliere, due anelli da piedi. 9,95 euro. Ok. Poi. Borsa e versibile, Eleni. 19,95 euro, quindi è da una parte fucsia e da una parte marrone. Poi, infredito Ebony, 19,95 euro, con queste paillettes nere. Con taglie 38,39 euro, 40,41 euro. Poi abbiamo, cintura Hective, in neoprene, da avvolgere alla vita, richiudibile. E, 9,95 euro, questa qui. Poi, set di due taglieri, a forma di frutta, 7,95 euro, questi due qua. Intimo. Set di due reggiseni Polkadot, nero e apua, 19,95 euro. Eccoli qui. E poi ci sono anche set di due slip. Allora, 19,95 euro, i reggiseni, 11,95 euro, gli slip. Poi abbiamo la camicia da notte, sempre in abbinato, 14,95 euro, il pigiama corto, a 14,95 euro. Pigiama meno, oppure camicia da notte. Poi, reggiseni multi-way con pizzo, 14,95 euro, quindi si può mettere in tanti modi, come potete vedere. Poi abbiamo il body illusion guaina modellante, 19,95 euro. Contonella slip a vita bassa, 7,95 euro. Poi ci sono quelli midi con pizzo e quelli maxi, tutti a 7,95 euro. Poi abbiamo un pigiama decadent violet, 17,95 euro, questo qui. Un abito prendi sole red jasmina, 16,95 euro, molto molto carino. E poi abbiamo i leggings gonna body illusion, 21,95 euro, che sono questi, qui. Direi che ho fatto vedere tutto, quindi questa era l'anteprima, spero che vi sia stata utile. Vi mando un bacione e al prossimo video!